La seconda edizione di Natale Pavia Vecchia presso San Marco di Castellabate ha raggiunto anche quest'anno importanti obiettivi, avvalendosi del generoso aiuto dell'associazione Vivi San Marco e dei numerosi sponsor. Proposta da un gruppo di giovanissimi della parrocchia, l'iniziativa ha unito l'intero paese in un impegno costante e concreto, avendo come unico scopo la ristrutturazione del campanile. La Via Vecchia, di fatti, ha ospitato stand enogastronomici con prodotti tipici del luogo, mercatini dell'artigianato, spettacoli musicali e balletti a cura della scuola espressione danza. L'allestimento e le decorazioni ispirate al tema Disney scelto hanno arricchito il contesto già caratteristico del luogo, suggestionando i visitatori. Nonostante le avversità dovute alle condizioni atmosferiche sfavorevoli, gli organizzatori non si sono persi d'animo, rimboccandosi le maniche e avvalendosi di un discreto risultato. La conclusione della manifestazione è stata la vera ciliegina sulla torta. Ebbene sì, a San Marco di Castellabate il percorso enogastronomico è culminato con una grande festa. Lo scenario davvero suggestivo della Villa De Angelis, il calore dello staff e dei visitatori del luogo, la neve artificiale spumeggiante, il DJ set e lo sfondo della Bella e la Bestia sono stati solo una piccola parte di questa splendida cornice. Questo fantastico panorama è la prova di quanto San Marco sia magica anche d'inverno, dove la magia del posto è chiusa nei vicoli del paese, nei cuori dei suoi abitanti e del suo parroco.